Gaitano Deidone, autore del momentaneo gol del pareggio per l'oratorio su sotto, non è bastato perché poi avete lasciato i tre punti a Brignano. Purtroppo no, abbiamo avuto anche altre occasioni per riportarci in parità dopo il 2-1 subito ma non siamo riusciti a sfruttarle. Una traversa in una mischia e addirittura anche un calcio di rigore. Esatto, non siamo riusciti a realizzarlo, abbiamo perso questi punti, almeno potevamo strappare il pareggio, non ci siamo riusciti, ci riproveremo alle prossime. E come sta andando il vostro campionato da Deo Promossi, giusto? Sì, cerchiamo di, il nostro obiettivo è la salvezza quest'anno e ce la metteremo tutta per raggiungerla. Venite comunque da un momento positivo, avete la possibilità poi di tornare in casa a rifare punti? Sì, contro Bariano speriamo di farli. È sicuramente un impegno difficile? Sì, ogni partito è un impegno difficile.